Credenza religiosa e scelta politica. Un contrasto che nel dibattito pubblico delle democrazie occidentali risuona quanto mai vivo, giacché orienta con le sue oscillazioni la vita della società su questioni come la bioetica, la sessualità, la libertà dell'individuo. Se ne è discusso nella sala consigliare del Comune di Napoli col professor Ugo Tristan Engelhardt, medico e filosofo americano, uno dei massimi riferimenti del pensiero contemporaneo sui temi dell'etica sociale. Il progetto di costruzione di una morale universale è evidentemente fallito al cospetto della storia, ha spiegato Engelhardt, cristiano ortodosso esperto di teologia. Anche se due comunità condividono gli stessi valori, sarà il loro diverso ordine di priorità a delineare sistemi morali differenti e differenti orizzonti politici. Il presidente della consulta italiana di bioetica, Maurizio Mori, ha rilevato come Napoli in questo momento rappresenti un importante riferimento della scena nazionale, un laboratorio di civiltà dove si innestano politica e cultura. Come testimoniano i recenti registri sul testamento biologico e sulle coppie di fatto, approvati dalla Giunta e consegnati alla discussione del Consiglio Comunale. L'assessora Tommasielli ha sottolineato la rilevanza del pensiero di Engelhardt che da cristiano praticante riconosce il primato della laicità nelle scelte pubbliche, in nome di una sintesi dei valori di comunità che è trascritta nella Carta Costituzionale.